Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Nel programma Oggi è un altro giorno, la conduttrice ed ex modella Eleonore Casalegno si apre sul dramma personale che l'ha colpita, mostrando il lato umano e vulnerabile dei VIP. Il suo racconto ha emozionato molti telespettatori che hanno dimostrato affetto e comprensione nei commenti sul suo profilo Instagram. Il racconto di Eleonore riguardò la gravidanza della sua prima figlia. Nonostante una gravidanza tranquilla e controlli regolari, un giorno, sentendo alcuni dolori, decide di recarsi in ospedale per un controllo. A seguito di esami, scopre che la bambina si era avvolta il cordone ombelicale attorno al collo, rischiando di soffocare. In pochi minuti, la situazione sarebbe potuta diventare irreversibile. Eleonore viene immediatamente portata in sala operatoria per un parto cesareo d'urgenza, grazie al quale la vita della sua bambina viene salvata. La piccola Suami è oggi una giovane donna di 23 anni, in salute e senza conseguenze dalla drammatica nascita. Il pubblico ha seguito con ansia il racconto di Eleonore Casalegno, condividendo il dolore e la gioia di questa storia a lieto fine.